bella a tutti lupacchiotti bentornati sul canale oggi andiamo a vedere due titoli che sono comparsi nello store a sorpresa e che riguardano la simulazione il primo che andiamo a vedere real track driver simulator USA a quanto pare un simulatore o pseudo simulatore di mezzi pesanti quindi trasporti su lunga distanza ambientato in una fetta di america i camion che ho visto che ho intravisto dalle foto sembrano su licenza il gioco sicuramente non si vuole imporre come il simulatore dell'anno ma sicuramente ci darà un bel po da giocare e il rullo di tamburi a sorpresa compare questo bus simulator city driver 2023 quanto ne so è un porting d'android comunque il gioco nello step next gen si presenta abbastanza bene nella media per essere un titolo di serie b da quello che ho notato i veicoli non sono su licenza ma comunque il nuovo gioco di bus farà la comparsa su console a quanto pare a breve è uno di quei titoli che non hanno i reveal non hanno i leak non hanno trailer ma prima o poi da punto in bianco uscirà nello store disponibile per l'acquisto sia per real track che per bus city driver non ci sono date di uscita confermate ma appunto come ho detto prima secondo me ce li troviamo da un giorno all'altro con il prezzo e disponibili per l'acquisto ragazzi il video finisce qui vi ringrazio per avermi seguito like a bombazza ci vediamo alla prossima saluto a tutti lupo del tubo ciao 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 ciao